buongiorno questo che state vedendo è una prova di un video monetizzato su youtube scusate se soppeso le parole sto molto attento a quale parole uso ma i criteri di scelta di youtube riguardo il monetizzare o meno un video sono diventati molto molto stringenti come potete vedere dalla schermata che vi alleggo cioè che vi faccio vedere ora non mi monetizza monetizza scusate più neanche un video e voi direte sì perché tu parli di quella cosa che non si può dire se non mi demonetizza di quella cosa che fa paura a tutti e ci hanno fatto una canzone che è la prima intendenza insomma quella cosa lì avete capito perché quelli li demonetizza tutti però non è solo quello ho fatto video di altre cose che non mi parevano demonetizzabili e me le sono trovate tutte demonetizzate quindi ora vi faccio una prova con questo video benvenuti ad un video in linea con tutte le norme di youtube politicamente corretto e family friendly ho messo una luce dal colore caldo perché non portasse troppa agitazione ho un maglioncino cardigan che dir si voglia scusate non lo so di colore abbastanza marroncino neutro dietro una pettinatura molto regolare senza ciuffetti mi sono alzato presto anche se domenica perché sono un bravo ragazzo il video lo sto registrando alle nove del mattino con una voce molto pacata dietro di me uno sfondo molto generico colore sul chiaro sul crema e chiedo scusa perché si sente discriminato perché gli piacciono altri colori ho scelto questo colore ma non ho nulla in contrario contro gli altri colori e non parlerò in questo video di malattie non vi parlerò di cronaca per carità di politica per carità gli altri youtuber no perché poi è dissing per carità non parlerò di calcio perché poi ognuno ti fa una squadra diversa c'è divisione cronaca nera meno che mai dipendenze no perché viene demonetizzato cioè non posso parlare di quelle di come queste cose insomma avete capito queste cose qui non ne posso parlare nemmeno per dire che fanno male e come uscirne e dare un contributo positivo perché viene comunque demonetizzato sono argomenti che non vanno bene quindi che dite facciamo un video parliamo di cose per bambini mi metto a fare i versetti no perché se no dicono che prendo in giro i portatori di handicap non va bene ma neanche video per bambini vanno bene perché ora con la legge coppa i video per bambini vanno demonetizzati anche quelli tolti i commenti e quindi niente che facciamo chiudiamo qui no dai parliamo del papero si può parlare del papero viene demonetizzato anche quello il papero il papero è un animale è un becco buffo e piatto è un uccello tipo il pollo però non è un pollo è un papero chissà se mangia il becchime il papero come il pollo avete presente quello che alcuni mettono anche nella colazione nel latte o nel succo d'arancia quello solo io quello è becchime no? si dicono che sono cereali ma sono piccoli sono secchi c'è disegnato un pollo secondo me è becchime comunque vabbè ognuno ai suoi gusti l'ho mangiato anch'io per un periodo infatti mi stavo trasformando in un pollo però parlavamo di papero e non di polli e il pollo il papero cioè è un animale che ha le zampe piatte no? ah c'è un po' di confusione fuori spero che nessuno si spaventi me ne scuso e il papero ha le zampe palmipede no? stavo per dire plantigrade però il papero non è plantigrado cioè ha le zampe piatte ma è palmipede i plantigradi invece sono gli orsi anche noi siamo plantigradi perché i primati sono plantigradi i primati tra cui noi e gli ursidi l'orso tra l'altro è un animale molto simpatico si può parlare degli orsi senza che il video venga demonetizzato perché noi in italia abbiamo un orso particolarmente simpatico che è l'orso marsicano che la marsica credo che sia in abruzzo in quelle zone lì ed è un animale da tutelare assolutamente ci sono pochi esemplari vanno salvaguardati perché gli orsi marsicani sono particolarmente simpatici e amichevoli sono orsi confidenti ed è stato dimostrato scientificamente che hanno nella loro genetica delle caratteristiche simili addirittura agli animali domestici infatti tendono a diventare più piccoli e più mansueti e questo è positivo perché dai pensate al cucciolo di orso marsicano è proprio l'orsetto classico quello che teniamo in caso che i bambini tengono vicino al cuscino quindi andrebbe molto salvaguardato anche valorizzato per fini turistici e cose del genere e non fare come quella volta che un orsetto marsicano si era avvicinato ad un paese perché era in iperfagia e aveva fame e voleva cercare fruttini e allora hanno cacciato le guardie tirandoli sassi e petardi e non si fa infatti anche la popolazione è insorta e ha detto non bisogna comportarsi così con l'orsetto che non fa male a nessuno e anche il sindaco ha detto che è una cosa scandalosa perché fare così è come spaventare un bambino e tengo a precisare che si tratta di un orso piccolo e del tutto innocuo e io aggiungo che non ci sono mai stati casi di aggressioni all'uomo da parte di orsi marsicani anche grossi, non solo cuccioli, tipo l'orso Mario lo sapete chi è l'orso Mario? una volta un orso si è arrampicato al terrazzino di una casa ed è entrato dentro è andato in dispezza, si è mangiato tutti i frutti e tutti i dolci dopodiché è andato in bagno non so a fare cosa ma forse ad esplorare o a bere l'acqua poi mentre stavo scendo dal bagno è arrivato il padrone di casa e si è trovato di fronte l'orso si sono spaventati a morte e l'orso è fuggito da una parte e l'uomo dall'altra sarebbe stato il massimo se si fossero rincrociati fuori però non è successo, l'orso è scappato e l'uomo pure comunque questo è stato il caso di incontro più pericoloso tra un uomo e un orso marsicano bene, abbiamo potuto parlare di qualcosa in questo video certo c'erano altri argomenti però ragazzi non si può io non so di cosa parlarvi ancora a parte gli orsi e paperi quindi direi di concludere qui e spero di avere sensibilizzato alcuni di voi su quanto queste regole di youtube siano un po' troppo stringenti riguardo la censura e la demonetizzazione e anche tutto questo politically correct sia un pochettino esagerato, non credete? ah, e quelli di voi che dicono beh, che siete demonetizzati così i youtuber lo faranno solo per passione ragazzi forse confondete tra uno youtuber demonetizzato cioè uno youtuber che ha caricato un video demonetizzato e uno youtuber che non ha la partnership un video demonetizzato non ci guadagna neanche youtube non è che youtube ha dei server che costano milioni, miliardi di euro e ci fa caricare video, commentare e vi fa sparare le vostre le vostre no, non posso dirlo se no mi demonetizzo vi fa sparare le cose che ditte insomma a gratis prima o poi se non monetizzano più nessun video neanche quelli primi in tendenza youtube dovrà chiudere ragazzi quindi non siate tanto allegri che i video siano tutti demonetizzati ok? anche perché non ce n'è motivo sarebbe l'ora che questa cosa la recepissero anche certe aziende bene ragazzi detto ciò vi saluto sempre con voce pacata con non litigate festeggiate la no, non parliamo di religione se no mi demonetizzano insomma festeggiate la domenica e statemi bene ci vediamo al prossimo video magari demonetizzato ma in cui parlerò di cose che mi interessano un po' di più non vedo l'ora ok il video finisce qui ciao tanta pace e grattini a tutti più e Grazie a tutti.